Una ragazza a terra sull'asfalto, automobilisti che cercano di soccorrerla in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118, tutto ciò a seguito di un violento tamponamento che ha coinvolto tre persone, avvenuto intorno alle 17.30 sulla provinciale per Trepuzzi, all'uscita di Lecce. Una ragazza e un ragazzo coetanei di 21 anni, entrambi di Manduria, e una ragazza di 20 anni di Novoli si sono tamponati a causa di un'avaria di una delle due macchine che improvvisamente si è fermata sulla corsia di marcia, diventando ostacolo per chi sopraggiungeva, ostacolo che non si è potuto evitare. La ragazza manduriana, trasportata in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stata ricoverata per trauma cranico nel reparto di neurochirurgia e non corre pericolo di vita. La giovane di Novoli e l'altro ragazzo di Manduria, trasportati all'ospedale di Copertino, rispettivamente in codice giallo e codice verde, sono stati ricoverati per accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia locale di Lecce che hanno regolato il traffico e fatto i rilievi dell'incidente.